Ti capita spesso di essere triste. Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Si parla di cinema e di dove si preferisce andare a vedere un film. Se tu stasera dovessi andare al cinema per esempio andresti al cinema locale o alla multisala? Alla multisala. Come mai fai questa scelta? Perché secondo me, cioè noi abbiamo il cinema locale a Voghera ma offre pochissime scelte e scelte obbligate. Se ci fossero più scelte evidentemente mi fermerai a Voghera per quello. Quindi il fatto che ci sia una sola sala che ti permette di vedere quel film ti porta ad andare alla multisala? Sì esatto per quello. C'è però una convenienza a livello di costi? Forse il cinema locale costa un po' meno. Sì ma cioè preferisco non guardare a quello. Preferisco guardare il film che comunque mi interessa in quel momento e che magari è appena uscito e so che alla multisala lo vedo subito e invece al cinema locale no, devo aspettare un po'. Possiamo dire che se il cinema locale non ci fosse più a te non importerebbe più di tanto? Esatto. Sì è quello. Non ci farei neanche caso. Io preferisco andare al cinema locale e frequento la multisala dove la qualità del suono per esempio è migliore. Il cinema locale fa parte un po' delle tradizioni e vorrei che continuasse anzi se ce ne fossero anche di più. Oltre al cinema locale mi piacerebbe sempre che ci fossero nei cinema locali magari film di qualità anche fuori dai circuiti tradizionali che si possono vedere nelle multisala quindi potrebbe essere un'idea che però diciamo è percorsa raramente qui a Voghera sì un po' all'arlecchino questo si fa. Quindi qualche pellicola un po' più di nicchia diciamo? Sì di nicchia però parlando con amici magari devono andare a Milano a vedere dei film che qui non girano e quindi sarebbe una bella cosa ecco questo. Il fatto che sia stato proiettato il film di Checco Zalone in un cinema locale secondo lei è un regalarsi ai film commerciali oppure è giusto perché bisogna in qualche modo far sì che si possa continuare a guadagnare? Assolutamente diciamo il lato commerciale è fondamentale quindi benvenga anche Checco Zalone per il cinema italiano e il cinema locale. Io sono andato a vederlo quindi. Dove? Multisala o cinema locale? Non si può dire. Multisala. Ma tutte e due guarda io sono appena andata a Montebello però anche a Arlecchino va bene. Cosa apprezza di più di uno e cosa apprezza di più dell'altro? Montebello anche i prezzi ogni tanto sono scontati e la sala più grande così però se non ho tempo di andare fino là oppure non ho un trasporto preferisco Arlecchino. Quindi il fatto che sia vicino a casa comunque? È un avvantaggio sì.